Signore e signori sono Escher88 e dopo tantissimo tempo finalmente l'attesissimo gioco Pokémon Bianco 2 e Pokémon Nero 2 sono usciti appunto sulle... credo almeno anche in Giappone insomma anche sulle video giocherie del mondo orientali e sono uscite anche le prime ROM che non sono magari quelle ufficiali perché insomma ancora credo devono essere fissate in versione giapponese ho visto che molti utenti mi hanno bombardato di messaggi con dire dai ti prego fai la guida ti prego qui ti prego là voglio un attimo precisare che la guida la faccio perché è l'ultima diciamo versione e l'ultima guida da Pokémon che farò tranne magari qualche spin off tipo Pokémon proposto ma quello vedremo la guida la faccio però aspetto che la ROM almeno sia fissata in inglese perché come potete vedere ora queste sono immagini rapite ma anche da alcuni video che magari qualche utente sta già facendo tipo i discorsi del genere io ora io non so i personaggi quindi non... cioè non li voglio nemmeno sapere perché voglio aspettare almeno la versione in inglese io non so chi sono e dopo uno non capisce nemmeno bene e anche per fare la guida dopo diventa brutto perché che cazzo c'è scritto qui che cazzo è lui lui o lui o lei che cazzo è quindi non... cioè non ce la fai a fare una guida al verso quindi aspetto un po' che esca la versione in inglese tanto con la tecnologia che c'è ora penso una settimana massimo due ci sarà o magari se qualcuno la trova prima di tutti prima di me perché io sono anche impegnato con il lavoro e magari l'ho già messa se l'R4 e funziona ecco se mi potete dare il link vi faccio la pubblicità vi rubo i soldi fate come vi pare vi picchio come preferite scherzo appunto inizierò la guida a pokemon bianco 2 o nero 2 per me è uguale tanto non mi importa quindi questo piccolo update fatto con l'iphone ora voglio caricarlo direttamente su youtube se mi riesce termina qui come al solito vi dico commentate votate ed iscrivetevi un ciao un ciao un ciao da WeSuggetto detto anche MrWe detto anche S88 saluto il mio amico MrSbocchi sicuramente non mi sta ascoltando perché è al mare l'altro mio amico AlexJD PacoGuz il buon mingo il buon Fabio BlackDani che chiaramente il ricco è il negro detto anche Mario Balotelli senza offesa a Balotelli e ai messicani che lui è messicano con i baffi saluto LucaP99 e tutti gli amici del tubo saluto anche tutti dai facciamo così saluto tutti votate commentate iscrivetevi vabbè ragazzi ciao ragazzi ciao